Paura giovedì mattina per un motociclista di 57 anni che ha perso il controllo del suo veicolo mentre percorreva l'autostrada A21 nei pressi del territorio di Redavalle, inoltre po'. Secondo quanto riferito da altri centauri che stavano viaggiando con lui in direzione Piacenza, sembra che l'uomo abbia tentato di evitare qualcosa, forse un animale, iniziando a sbandare e finendo contro il guardrail, fortunatamente a lato della carreggiata dove stavano sopraggiungendo automobili e camion. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di viaggio e sul posto è arrivata la polizia stradale con i vigili del fuoco di Pavia, i soccorritori del 118 giunti con ambulanze e automediche. Vista la situazione, pochi minuti più tardi è arrivato sul posto anche l'elisoccorso da Como. Per caricare il ferito a bordo l'elicottero è atterrato sull'autostrada per poi trasportare il motociclista al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. Il 57enne non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato alcune fratture e un trauma cranico piuttosto serio. Per circa un'ora sulla 21 si sono registrati disagi al traffico e lunghe code di mezzi, soprattutto pesanti. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 13. Più o meno la stessa ora, a confine fra Stradella e Broni, altri due motociclisti sono stati coinvolti nello scontro con un'auto, sia il conducente dello scooter di 55 anni che la donna trasportata di 58 se la sono cavata in questo caso con contusioni ed abrasioni, illeso invece il conducente dell'auto sul posto Carabinieri, polizia locale di Broni e un'equip del 118.